Signor Presidente, colleghi, perderò una parte dei 20 minuti riservati al nostro gruppo. Noi abbiamo presentato la mozione non per discutere dell'Istituto dell'Autonomia, così come previsto dalla Costituzione. Non era nostra intenzione, né lo sarà, trasformare il Consiglio regionale nell'Accademia sugli aspetti costituzionali. Noi abbiamo presentato la mozione perché noi vogliamo discutere del progetto di autonomia in questo momento all'attenzione del Governo nazionale proposto attraverso le bozze d'intesa della Lombardia e del Veneto in particolare e anche con riferimento al tema dei vari referendum svolte in quelle due regioni. Perché dico in premessa questo? Perché non ci sfugge, lo abbiamo sentito, che altre regioni sono impegnate in questo percorso e in ogni caso avanzano delle questioni funzionali. Però la maggior parte delle questioni funzionali che avanzano le altre regioni sono iniziative che in fondo, se guardate bene, mirano alla semplificazione e alla sburocratizzazione. Che è una cosa completamente diversa dall'autonomia prevista dall'articolo 116 della Costituzione. Faccio un esempio. Alcune regioni chiedono di poter decentrare i poteri relativi ai beni culturali con riferimento ai poteri delle sovrintendenze. Come sapete i beni sono beni a valle di un procedimento puntualissimo. Per cui chiedere eventualmente di non appesantire il procedimento amministrativo e magari utilizzare un responsabile unico del procedimento che interpellato su una qualsiasi opera di trasformazione del territorio, di trasformazione degli immobili, possa far parlare lo Stato una sola volta in tutte le sue articolazioni. Ma questo non c'entra nulla con l'autonomia di cui è all'articolo 116. Queste sono iniziative di cui l'Italia avrebbe bisogno e sono iniziative di sburocratizzazione e semplificazione. E non c'è bisogno della speciale intesa di cui è all'articolo 116 per realizzare questi obiettivi. Leggi ordinarie fanno alla bisogna abbondantemente. Per cui se si volesse approcciare a questo argomento, sull'argomento della semplificazione e della sburocratizzazione per far vivere meglio i cittadini nelle angustie del procedimento amministrativo e nella consapevolezza che il tempo ha un valore economico, tutti quanti diremmo di sì. Se invece la questione viene posta così come è stata posta, basta leggere le intese, viene posta anche con la trattenuta di una quota del gettito fiscale che queste regioni danno al Paese, ed è scritto lì, è scritto nelle bozze, il discorso muta. Il discorso muta e deve mutare e deve vederci a rappresentare un avamposto di protesta e di contestazione perché l'idea dell'autonomia è un'idea che si giustificava per esempio nel 1919 quando ne scrive Luigi Sturzo, perché ad uno Stato accentratore si rispondeva con la libertà. La libertà di cosa? Di fare localmente le cose che è più semplice fare. Oggi il concetto del locale è completamente rivoltato. Oggi non esiste il locale, oggi esiste l'Europa, la dimensione continentale e qualche volta in alcuni settori dell'agire umano addirittura c'è la prospettiva globale. Per cui per servire i cittadini e per svolgere opportunamente il proprio compito politico sarebbe il caso di dire invece che c'è bisogno di minore autonomia perché diventa difficile capire cosa localmente può essere risolto meglio, qual è l'argomento che localmente può essere risolto meglio. E invece sulla base di questa autonomia, che è messa così, chi direbbe no all'autonomia? L'autonomia ad un uomo, se tu gli dici tu sarai autonomo, un uomo ti dice certo è bellissimo, ma in termini contabili che cosa significa l'autonomia in questo progetto Lombardo-Veneto presentato per noi e per l'Italia? E' un problema di contabilità, è un problema di numeri e non è un problema di sburocratizzazione o di semplificazione. Significa per esempio per la sanità, e abbiamo fatto i conti soltanto sull'IVA sanitaria, meno 682 milioni solo sull'IVA sanitaria, pubblicato sullo studio finanza territoriale di Rubettino al quale ha partecipato un valoroso dirigente di questa regione, il dottor Pacifico, lo cito, e tra i relatori, tra gli scrittori e i redattori di quello studio, rappresenterebbe meno 682 milioni solo per l'IVA sanitaria sul Fondo Sanitario Regionale Pugliese. A questo e nell'intersezione con il federalismo fiscale, perché arriverà il tempo in cui qualcuno parlerà del federalismo fiscale, perché se voi andate a vedere gli atti parlamentari quando si discusse di federalismo fiscale, non c'è un parlamentare meridionale che abbia caratterizzato in termini di protagonismo la sua iniziativa per dire no allo scempio del federalismo fiscale. Per cui sempre in sanità, per esempio, ne derivò che la quota di riparto è assoggettata non soltanto alla popolazione o alla morbilità, ma per esempio alle classi demografiche. E che vale quanto dire che le regioni meridionali che in termini di classe demografica hanno popolazione più giovane rispetto a quelle settentrionali, con l'introduzione di queste ulteriori due caratteristiche, hanno portato ad uno svuotamento dell'idea di equità e di unità del Paese. Per cui noi negli ultimi 13 anni abbiamo avuto, con riferimento a questi parametri, meno 13 miliardi. E ci sono i numeri, i numeri sono testardi. Noi possiamo mettere in scena tutte le opinioni che vogliamo, in termini, come dire, letterari o politici, ma di fronte ai numeri e al loro essere testardi non c'è possibilità e non c'è alcuna resistenza. La scuola è stato detto ampiamente da altri, la cito per abbreviare il mio intervento, le infrastrutture. Le infrastrutture tenendo conto che di recente, senza che si sia detto nulla, il Parlamento nazionale, la maggioranza del Parlamento nazionale, ha approvato all'interno del decreto semplificazioni una cessione delle centrali idroelettriche alle regioni. Nella neutralità di questa formula legislativa è scritto alle regioni settentrionali evidentemente, perché io non ho memoria di centrali idroelettriche che insistono sul territorio centro meridionale, il quale ha comportato per questa cessione un vantaggio di 256 milioni di Euro l'anno più una quota di energia gratuita. Il che vale quanto dire che queste regioni sulla bolletta energetica, ora che andrà a regime, questa che è una legge vigente, non verrà, è vigente, è stata votata da questo Parlamento, significherà che le imprese del Nord avranno un vantaggio produttivo in termini di bolletta elettrica e questo aumenterà il gap tra il Nord e il Sud, perché noi non avremo la possibilità di beneficiare di questi interventi di carattere strutturale in materia dell'energia. E di qui potremmo lungamente analizzare il problema e nell'analisi lunghissima del problema arriveremmo sempre alla medesima conclusione. Per cui, con riferimento alla nostra richiesta al Consiglio regionale, noi richiediamo che sia contrastata questa ipotesi di autonomia. Noi non chiediamo, perché abbiamo visto che le altre mozioni, mozioni meritevoli di attenzione sui quali francamente annuncio, almeno per come la vedo io, non è che ci siano poi grosse distinzioni, tranne quella dei colleghi dei 5 Stelle in una parte della premessa. Io lo dico non in polemica con loro, ma per farli riflettere. Lì dove evocano una possibilità per l'autonomia, che per quanto mi riguarda, per come ho già detto, nel 2019 penso che ci sia bisogno di minore autonomia, ma comunque anche concedendo, la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Se verranno effettuate alla luce della normativa vigente sul federalismo fiscale, noi partiamo svantaggiati anche nella ricostruzione dei livelli essenziali delle prestazioni. Per cui quell'inciso che ha un suo valore, ha un suo valore all'interno dell'idea dell'unità nazionale, è un inciso che va osservato però con tutte queste attenzioni, per cui non si può in maniera quasi a critica accogliere i livelli essenziali delle prestazioni come rimedio per riequilibrare la sorte del Paese con riferimento ai problemi di carattere fiscale. Peraltro, ed è l'ultima cosa che dico, il progetto delle autonomie delle due regioni, c'è un problema, ed è un problema rilevato dall'Istituto Bruno Leoni, non sono io qua a dirvelo. È il problema che si chiedono maggiori competenze e poteri, si chiede anche di trattenere dalla leva fiscale le risorse utili per poter esercitare quei poteri, ma l'unica cosa che non si chiede, e questo è un grave danno, la facoltà fiscale. Perché uno potrebbe pure pensare di prendersi i poteri, ma se non assume la leva fiscale le regioni si presentano alla irresponsabilità perché i cittadini calcolano la qualità del governo sulla base dell'esercizio della leva fiscale. Se tu ti prendi i poteri, ma è lo Stato che mette le tasse, c'è il rischio concreto che le regioni diventano più spendacione ed aumenta la spesa pubblica. E questa è una cosa terribile. E noi lo diciamo dopo qualche anno, lo diciamo qui da questo Consiglio regionale, dopo qualche anno in cui, e ricorderanno i colleghi che erano presenti nella scorsa legislatura, ci fu un periodo in cui le regioni erano il male assoluto, a seguito di rimborsopoli. Alle regioni bisognava togliere tutto. Era il tempo delle mutande verdi in Piemonte, era il tempo del SUV nel Lazio, era il tempo dei libri di gossip comprati in Lombardia, scontrini, pranzi, cene. La regione Puglia risultò immune da quel processo, risultò immune da quel processo. Però nel giro di due o tre anni, come degli smemorati, noi ci dimentichiamo quanti problemi e cosa abbiamo pensato delle regioni con riferimento al riparto dei poteri. Per cui, ricucendo storia e numeri e tenendo lontano da questo argomento il problema della semplificazione amministrativa e della sburocratizzazione, ci pare di poter dire che noi stiamo di fronte ad un'iniziativa da contrastare. Ho accennato prima, nel 1919 Sturzo chiede l'autonomia, fu una risposta di libertà allo Stato accentratore. Oggi accentrare è una negazione delle libertà. Per cui noi abbiamo presentato la mozione affinché resti salda la libertà all'interno dell'unità dello Stato e nella prospettiva del continente europeo.